Ben ritrovati in primo piano oggi le ultime vicende dal punto di vista amministrativo che riguardano la città di Benevento, l'ultimo ritocco nella giunta guidata dal sindaco Mastella con l'ingresso di una donna nell'esecutivo che sarà responsabile dell'istruzione, quindi si occuperà del mondo scolastico. Parliamo della professoressa universitaria Rossella Del Prete che è il nostro ospito. Intanto grazie professoressa della sua disponibilità e complimenti ovviamente in bocca al lupo per questo nuovo incarico. La prima domanda che le faccio è abbastanza scontata intanto con quale stato d'animo ha assunto appunto questo incarico abbastanza delicato per quanto riguarda la delega che le è stata attribuita? Con lo stato d'animo di sempre, con l'impegno e l'entusiasmo che metto in tutte le cose che seguo. È un incarico importante che mi ha gratificato sicuramente moltissimo perché rientra nella mia sfera di competenza, quindi mi dà la possibilità di esercitare quella che forse è la mia capacità, sicuramente insomma è quello per cui ho sempre lavorato. Ecco, dal punto di vista politico c'è chi ha obiettato sostanzialmente che lei proviene da una estrazione di sinistra. Quando però ha accettato l'incarico lei ha subito chiarito aderisco al partito della città, ha detto. In che senso? Nel senso che non mi è stato chiesto di aderire al partito di Clemente Mastella, ma mi è stato chiesto di ricoprire un incarico, ripeto, circoscritto ad un settore che è quello di mio interesse. Non ho mai pensato a ricoprire cariche politiche, né o mire politiche, né nel mio futuro vedo un futuro politico. Il contributo alla città è una cosa diversa, è un modo di fare politica, un approccio anche alla politica sicuramente diverso, è un approccio che viene appunto dal dal desiderio di dover condividere delle capacità, un impegno, se vuole lo chiami anche un impegno di cittadinanza attiva, ma è sicuramente l'estensione naturale di quello che è il mio lavoro, su questo sono convinta. Abbastanza determinata dunque da questo punto di vista. Ecco, intanto qual è la sfida che intende portare avanti in questo settore, su cosa punterà in maniera particolare? Dunque, il problema principale è sicuramente quello di risolvere la questione più spinosa che è quella relativa alla mensa, che è un problema ingigantito da diverse situazioni e secondo me anche da particolari strumentalizzazioni politiche. Ho raccolto materiale in questi giorni per capirne di più, avevo seguito naturalmente la vicenda ma non essendo direttamente coinvolta, perché non ho più figli che frequentano scuole con la mensa scolastica, non lo avevo approfondito, ho seguito ovviamente le vicende della città. È un problema che si trascina da diverso tempo. È un problema che si trascina da diverso tempo e su cui so che il Comune è già intervenuto perché c'è un regolamento che è stato messo a punto e che è stato approvato da una giunta mi pare il 10 luglio. C'è un capitolato di appalto che è stato messo a punto e che sarà pubblicato a brevissimo, insomma, quindi è proprio una questione di giorni e che richiama un'attenzione, un controllo anche di qualità sulle ditte che potranno partecipare anche alla gara d'appalto. È un inizio, però io spero di risolvere entro settembre il problema della mensa e di potervi poi dedicare invece ad altro. Certo, un'altra questione aperta probabilmente, mi scusi Assessore, è il problema relativo all'edilizia scolastica. Da questo punto di vista farà un monitoraggio della situazione a Benevento? Dunque, l'edilizia scolastica non rientra precisamente nelle mie competenze perché è di competenza dei lavori pubblici, da quello che mi hanno detto. Sicuramente io sarò particolarmente attenta alla cura anche degli ambienti scolastici e in particolare alla cura anche del verde che in genere è presente fuori da alcune scuole. Ho fatto un po' il punto della situazione grazie ai dipendenti dell'ufficio del settore. Stamattina per esempio ho fatto un sopralluogo in quella splendida sede che potrebbe veramente essere il fiore all'occhiello del comune di Benevento che è la sede dell'asilo nido di di Pacevecchia che è stato completamente ristrutturato e che io spero possa essere riaperto in tempi più brevi possibili anche se naturalmente le condizioni poi per riaprirlo al di là del finanziamento necessario per completare gli arredi e i lavori è anche quello poi della gestione del personale. Quindi bisognerà lavorare su quello. Quella potrebbe essere per esempio una sfida da portare a compimento nel medio termine. Naturalmente ha assunto l'incarico da pochi giorni ma nella sua agenda ha già fissato degli obiettivi prioritari. Insomma quali sono le priorità su cui intende puntare? Allora innanzitutto ci pensavo proprio stamattina sull'idea di dover creare una sorta di conferenza locale della scuola. Cioè è fondamentale che l'istituzione comune interagisca con tutte le componenti della scuola. Le componenti della scuola sono sicuramente quelle dei docenti e quindi dei dirigenti scolastici e del personale tutto ma è anche quella dei genitori quindi delle famiglie e degli stessi studenti. Quindi l'idea è quella di creare delle occasioni anche più o meno frequente insomma per poter incontrare tutta la popolazione scolastica in tutta la sua completezza e discutere con loro. Insomma aprire una sorta di osservatorio ecco sulle scuole cittadine in cui però tutti acquisiscano piena consapevolezza di quali siano poi eventualmente i problemi. Tra le prime dichiarazioni intanto Assessore lei ha detto dobbiamo garantire qualcosa di più ai nostri giovani. In che modo intende appunto raggiungere questo obiettivo? Innanzitutto rafforzando in loro un senso di responsabilità per il territorio in cui vivono, un senso di consapevolezza anche del patrimonio che hanno a loro disposizione. E poi io sono sempre stata convinta che tutto cominci dalla scuola. Tutto comincia dalla scuola penso al decoro urbano, penso alle possibilità di lavoro, penso per esempio all'occupazione nel settore dei beni culturali ma penso anche semplicemente a quella che è la formazione di una futura classe dirigente o di una futura cittadinanza attiva che sicuramente se è formata per bene fin dalla più piccola età crescerà e contribuirà alla crescita di un territorio in tutti i sensi. Se non c'è un livello di istruzione sostenuto, se non c'è un livello di consapevolezza anche culturale molto forte difficilmente si crea un contesto in cui poi l'economia possa avere uno sviluppo altrettanto interessante. Ecco lei intanto viene definita una donna da tempo impegnata a promuovere nella città di Benevento attività culturali di alto profilo. Un'altra polemica che è stata sollevata c'è chi ipotizza che lei possa in qualche modo scontrarsi con progetti culturali non all'altezza del suo passato, insomma del suo curriculum, come dire? Allora intanto io non smetterò di occuparmi di attività culturali perché è il mio lavoro, è un lavoro che ho inseguito, che ho conquistato con fatica e con sudore, quindi non intendo rinunciare sicuramente a quelle che sono le mie attività principali. La condivisione di altri progetti culturali che sono quelli che devono poi tener conto di una popolazione eterogenea, che ha delle altre esigenze, che pone anche delle altre domande, è una necessità che insomma va valutata e va valutata di volta in volta. Non me la sento di contestare, a priori, un'organizzazione di un festival, di un'edizione di un festival o di un'organizzazione di qualunque altro evento culturale, partendo e dicendo che è un evento di bassa qualità. L'importante è rispondere all'offerta, alla domanda culturale che può provenire appunto da una città eterogenea con altro tipo di offerte. Cioè l'importante è che l'una non penalizzi l'altra, però bisogna tener conto della domanda di tutta una popolazione e non tutti vogliono sempre e comunque un'offerta di qualità di un certo tipo. Quindi bisogna imparare anche a gestire diciamo questa offerta culturale tenendo conto delle diverse esigenze. Intanto Mastella che cosa le ha chiesto? Qual è il progetto che appunto l'amministrazione comunale si aspetta che lei metta in campo? Il sindaco mi ha semplicemente chiesto di contribuire al governo della città, mi ha chiesto impegno, mi ha chiesto partecipazione, mi ha chiesto collaborazione ed è quella che io ho immediatamente accettato di dargli, ma ripeto, finalizzato allo sviluppo di una città che ha bisogno di di riprendersi anche molto del suo patrimonio in senso lato e che ha bisogno di smuovere diciamo le coscienze, forse questa è la parola giusta. Per chiudere questa nostra intervista ai cittadini beneventani che cosa dice, insomma qual è la sua promessa e il suo impegno? Il mio impegno è quello appunto di chi sicuramente porterà avanti questo incarico fino a quando mi sarà possibile naturalmente perché sono perfettamente consapevole che le regole della politica sono ben diverse dalle regole poi del lavoro tecnico o anche dell'efficienza detto tra di noi, ma è un impegno che prendo nel senso di totale dedizione, nel senso di per quanto possa garantirlo insomma razionalità, equilibrio e ripeto la disponibilità ad ascoltare sicuramente tutti, quindi sono pienamente disponibile, in assessorato mi hanno già affidato la stanza che utilizzerò naturalmente per ricevere, domani mattina incontrerò i dirigenti scolastici come primo incontro, primo approccio diciamo anche un modo per presentarmi, ma ripeto l'idea è quella proprio di creare delle occasioni di incontro che siano più frequenti e che creino quel clima di collaborazione, di fiducia che deve in qualche modo sostenere le scelte importanti per questa città. Bene, saremo a vedere intanto da parte nostra ovviamente gli auguri, un in bocca al lupo per questo incarico, i complimenti per questa carica così prestigiosa che le è stata riservata, grazie dunque all'assessore all'istruzione del comune di Benevento, Rossella del Prete che è stata nostra ospite, grazie in regia per noi Andrea Bocchino, buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.